Che cos'è Digital Focus Group? È un format che ho creato sul mio canale YouTube in cui approfondisco certe tematiche sul mondo di marketing digitale, business online e comunicazione in generale con il contributo di alcuni esperti in materia. Ecco è appena uscito un nuovo video sul mio canale YouTube quindi se vai sul mio profilo potrai vedere l'ultimo Digital Focus Group sui social media.